Ben ritrovati ragazzi. Non ho vinto la lotteria ragazzi. Grazie Alberto. Che uno diceva tutti questi unboxing che fa. SimuCube 2 Pro. Cioè ragazzi. Cioè un'emozione dietro l'altra ragazzi. Ammazzo quanto ho perso. Cioè finalmente potrò fare il paragone con gli altri direct drive che ho testato. Questo messaggio era il mio amico Mirko. Mirko finalmente dopo due anni ci sei riuscito. SimuCube 2 Pro ragazzi. Sono molto emozionato. Non ho parole. So solo che ci stanno 25 Nm che mi aspettano. E c'è un sacco di lavoro da fare per montare e smontare. Però non mi interessa. Cioè ragazzi. Se mi avete. Se mi avete eseguito. Avete eseguito anche. Il. L'unboxing. Bruttissimo. Dell'F Pro. Questo è peggio secondo me. Perché non posso dire nulla. C'è una scatola ragione. Non me ne pagano niente. Con dei capi. Che cazzo se ne pagano i capi come l'altra volta. Quindi l'unica cosa che vi dico ragazzi. È che mi sono comprato un SimuCube 2 Pro. E sono stra felice. E anche se questo video dura solo due minuti. Probabilmente. Era solo per farvi. Vedere. Questa meraviglia. Della tecnologia direct drive. Che finalmente è a casa mia. E di rimanere sintonizzati. Su questo canale. Perché. C'è un sacco di cose da recensire. Perché voi non lo vedete. Ma c'è uno scatolo ancora piano lì. Quindi. Ragazzi. Lasciate un pollice in su. Solo per la mia felicità. Non la vedete. Mi manca la lacribuccia. Per la mia felicità. Iscrivetevi al canale. Tanto è gratuito. Attivate la campanellina. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto. Ciao. Sì. Ho più due bro. Cazza figata. Ciao.